11.000 euro per l'acquisto di 10 rifibrillatori semi-automatici di ultima generazione da dare in dono a 10 associazioni proloco iscritte all'UMPLI e l'iniziativa messa in campo dal comitato UMPLI L'Aquila preseduto da Raffaele Di Santi per rendere cardioprotetto alle singole comunità. Come beneficiare del progetto? Condizioni e requisiti sono sanciti nel regolamento consultabile su www.umplilaquila.info. Verrà stilata una gradatoria che verrà pubblicata allo scadere del termine previsto. Tutte le proloco ricadenti nel territorio provinciale possono fare richiesta per avere uno degli apparecchi completamente gratis. L'impegno della proloco sarà quello di mettere a disposizione alcuni soci per affrontare il corso abilitante all'uso obbligatorio. Il comitato provinciale, afferma Di Santi, ha voluto investire gran parte del proprio bilancio in un progetto che serva a garantire la minore protezione possibile da quegli eventi di natura cardiovascolare che soprattutto in feste, sagre e manifestazioni con tantissima gente possono essere particolarmente pericolosi. Molti paesi, soprattutto i più piccoli o le frazioni, non hanno un contatto diretto e immediato con i centri di primo soccorso e per agire durante una crisi cardiaca si hanno solo 4 minuti al massimo. Pertanto il corretto utilizzo degli apparecchi di defibrillazione possono concretamente salvare delle vite. Il Presidente ricorda che le associazioni proloco sono da sempre molto attenti alla salute dei partecipanti dei propri eventi, ma a volte non vi sono delle apparecchiature pronte o mezzi di primo soccorso presenti. Pertanto questo progetto è rivolto principalmente a quelle realtà che sono sprovviste di cardioprotezione e avranno precedenza nella graduatoria di assegnazione. Crediamo che questo progetto può essere il primo di molti altri simili, anche in altre province, ed abbiamo anche previsto un convegno in cui verranno approfondite le tematiche sanitarie sui problemi cardiaci e vi sarà una cerimonia di consegna con le proloco assegnatarie, le autorità territoriali e l'UMPLI. Si conclude di Santi.